No, io sto a scoprire i barchi di... Giorno! Ma dove stai? Oh, Adi? Oh, come ha fatto? Ah, ci picchia! Ma no! Ok! Comunque, ma stai sopra! Ma ora ci parlo io! Chi è? Ehi! Affuscia, chiamolo, no? Ma dove stai? Perché non devo aspettare! Oh, io non posso portare la sua borsa! Dai, portami gli occhiali! Che ti dà l'incazzo? Non lo no! Ah, perché stai sopra! Olli, saluta questo! Saluta questo che sto lasciando a piedi! Telefonati! Vi chiedi la cellulare albergo! Ciao! Ciao! Ciao!